L'Hockey forte dei marmi supera il giovinazzo di Pino Marcella con il risultato di 11 a 5 ma al primo tempo si è chiuso con il minimo vantaggio dei rosso-blu 3 a 2. A sbloccare il risultato è stato Ambrosio, poi dopo aver sfiorato nuovamente il raddoppio c'è il pareggio degli ospiti con Mura. Passa un minuto e Gil riporta avanti il forte dei marmi con un tiro da posizione angolata e poco dopo Ambrosio con una girata in area porta a tre le reti per il rosso-blu. La squadra di Marcella non si arrende, al ventunesimo viene espulso per i forti marmini Galbas, Mura mette fuori il tiro diretto. Mura realizza però la rete per la chiusura minima del 3 a 2 del vantaggio come detto del forte dei marmi che si scatena però nella ripresa ancora con Ambrosio, autore di tre reti, Gil e Turner 2 e compagno. Mura realizza una doppietta per la squadra di Pino Marcella e Leber, tengono in corsa i due giocatori la squadra pugliese ma poi deve cedere alla superiorità tecnica dei versiliesi che così conquistano tre punti e mantengono la vetta della classifica. Per la Coppa Italia di Serie A2 nel girone C il Cdc ha superato il Sarzana in trasferta 13 a 4, forte dei marmi e Puma si è rinviata a martedì 7 novembre e riposava il camaiole.